e gli occhi neri gli occhi del diavolo ciao a tutti cari amici del canale ben ritrovati su dr loomis channel per questo nuovo video questo nuovo video unboxing review proprio oggi il giorno di halloween vorrei mostrarvi un prodotto che mi è arrivato insieme ad altri due prodotti della tetrovideo label made in italy una bella realtà per il mercato un video italiano che si occupa sono specializzati su prodotti horror estremi prodotti underground quindi se siete amanti dello splatter del gorro mi piacciono i film con decapitazioni con mutilazioni insomma chi più ne ha più ne metta litri e litri di sangue insomma questo è lo store che fa per voi distribuiscono un sacco di prodotti e per il mercato internazionale qui troviamo comunque prodotti in lingua originale principalmente con sottotitoli in italiano e non solo a volte ci sono anche sottotitoli in francese in tedesco insomma bisogna vedere a seconda del prodotto nel frattempo vi mostro anche il loro store sia quello tetrovideo ma anche quello gordrom che sono praticamente gemellati come possiamo vedere abbiamo sia prodotti anche in semplice formato amaraim la cosa bella e per noi collezionisti abbiamo anche edizioni speciali quindi nel formato media book limitati a 50 100 copie a volte anche 30 copie ma anche nel formato digipack a volte contengono anche delle card insomma davvero davvero una bella realtà i costi sono anche abbastanza contenuti a volte troviamo anche prodotti in offerta vi consiglio veramente di sfogliare questi due siti perché troverete sicuramente prodotti molto molto interessanti sempre se siete chiaramente amanti di questo genere quindi del cinema estremo chiaramente troveremo prodotti di tante nazionalità diverse quindi prodotti americani italiani francesi russi insomma c'è davvero di tutto e oggi vi voglio parlare di un film una pellicola girata nella fine degli anni 80 ovvero blood massacre che fa parte della collana tetro underground di cui vi mostrerò poi nel dettaglio tra pochissimo anche questa determinata edizione perché esiste in due versioni differenti quindi la versione standard che comprende appunto la marai nel formato dvd e poi abbiamo anche una sovracopertina esiste poi anche la silver edition un'edizione limitata quindi a un numero limitato di copie che contiene anche dell'altro ma ve lo mostrerò tra pochissimo da un'altra angolazione adesso concentriamoci più che altro su questo film che ho avuto modo di vedere per la prima volta una pellicola girata da don dollar nel 1987 anche se poi verrà distribuito qualche anno dopo nel formato vhs finché parla di una banda di rapinatori che dopo un colpo andato a male in un negozio di videocassette dove perde la vita anche una ragazza si rifugiano in una in una casa familiare dove però poi si ritroveranno in un bagno di sangue e non dico altro pellicola che sicuramente non spicca per la sua originalità ha molti punti deboli tra cui appunto la sceneggiatura ma anche la recitazione davvero è un po anzi abbastanza scadente e devo dire che la risata involontaria scappa molto spesso durante la visione di questo film però ci sono anche dei punti a favore il film si guarda senza problemi fino alla fine davvero molto molto godibile se si è amanti di questo genere ovviamente con tutti i limiti che troviamo in questo genere di horror trash chiamiamolo così la seconda parte infatti è quella più più interessante qui si strizza l'occhio al film l'ultima casa a sinistra di Wes Craven che venne girato nel 72 e comunque per gli amanti del cinema trash horror di fine anni 80 è un film che secondo me va davvero visto e stiamo parlando comunque di un film low low budget anzi diciamo anche micro budget e ve ne accorgerete comunque durante la visione di questo film e nel 2021 grazie appunto alla tetro video e a questa collana la tetro underground esce nel formato dvd blood massacre che è una collana di film gore poco conosciuti a basso costo che va fino alla fine degli anni 90 quindi non va oltre il 99 ci troviamo di fronte ad un restauro digitale fatto non sul master originale 16 mm della pellicola che purtroppo ormai non si trova più ma bensì dalla vhs lavoro di pulizia peraltro fatto dallo stesso regista quindi comunque non aspettiamoci miracoli sulla qualità video comunque qui all'interno troviamo la traccia originale in inglese e poi abbiamo anche i sottotitoli in italiano e in francese con questo cambiamo un attimo angolazione così vediamo nel dettaglio questa edizione di blood massacre bene vediamo quindi più da vicino questa edizione di blood massacre che fa parte come possiamo vedere dalla sovracopertina della collana tetro underground appunto pellicole prodotte fino al 1999 e la troviamo appunto con questa sovracopertina cartonata tipico stile vhs infatti la cosa particolare è che non troviamo sulla sovracopertina il titolo del film questo ce lo possiamo scrivere in maniera autonoma noi stessi con il pennarello giriamo anche il lato posteriore anche in questo caso stile vhs molto retro dove possiamo scrivere eventualmente le nostre note le nostre considerazioni quindi se il film vi è piaciuto se era così così oppure se non vi è piaciuto per niente prodotto distribuito nel 2021 tetro video nel formato appunto dvd region hall e ora andiamo a vedere la marai che c'è all'interno ecco quindi questo è l'art work frontale del film costina e questo invece è il retro qui abbiamo una breve descrizione del film qui abbiamo le specifiche tecniche quindi pellicola girata nel 1987 in molti invece considerano l'anno di produzione il 1991 quando il film poi è stato distribuito in vhs credo però io faccio fede al 1987 durata 73 minuti in 2.0 stereo quindi audio originale inglese però abbiamo i sottotitoli in francese e in italiano aspect radio 4 terzi abbiamo anche dei contenuti extra quindi abbiamo il trailer del film poi abbiamo una scena di apertura alternativa e poi abbiamo praticamente un montaggio preliminare della prima versione video del film diamo un'occhiata anche all'interno e qui abbiamo il disco ecco qua come anticipato anche prima praticamente abbiamo vi mostro anche qui sulla sinistra due versioni di questo di questo film due edizioni la versione standard come questa che vi ho appena mostrato quindi con amarai slip case più dvd e poi nella versione silver limitata e numerata con cover reversibile la card da collezione quindi limitata a soli 30 pezzi bene quindi questo era blood massacre di don dollar regista che peraltro nell'arco di 30 anni ha diretto poco più di 5 6 film nella sua carriera tra cui ha diretto anche il film the alien factor nel 1978 poi è girato anche una specie di sequel non è un vero e proprio sequel nei primissimi anni 2000 però devo dire che io ho conosciuto questo regista grazie al film night beast la bestia notturna venuta dallo spazio abbiamo avuto modo di poterlo avere in collezione grazie alla horrible tapes di daniele francardi quindi se volete recuperare questa edizione potete ancora farlo edizione sempre con audio originale e sottotitoli in italiano quindi prima di lasciarvi voglio ricordarvi alcune cose innanzitutto il prodotto che vi ho appena mostrato è disponibile sia sul sito della tetrovideo ma anche sul sito della gordrom che vi lascio i link nella descrizione di questo video troverete anche dovreste trovare ancora dei prodotti che io ho acquistato l'anno scorso e che vi ho già mostrato nel canale i video unboxing ovvero del film philosophy of a knife questa bella edizione media book che troverete dovrebbero esserci due versioni differenti con due artwork differenti e poi l'altra edizione che è sempre nel formato media book la croce delle sette pietre anche di questo troverete il video unboxing nel canale di dr lumis channel mi raccomando poi l'ultimo video che avevo fatto dedicato appunto alla tetrovideo è la shock commentary collection questa bella edizione limitata a 200 copie anche di questo credo dovrebbero esserci ancora delle copie disponibili la copia numero 71 comunque ripeto collegatevi sul sito della tetrovideo troverete un sacco di prodotti interessanti e come dicono loro stessi sul loro sito i loro prodotti sono creati dai fan per i fan quindi questa è una cosa molto importante perché vuol dire che ci mettono cura nei loro progetti bene io vi ringrazio per aver visionato questo video vi ricordo che nel mese di novembre troverete altri due video unboxing review di altri prodotti tetrovideo quindi se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi attivate la campanella così non appena verrà caricato un nuovo video sarete subito avvisati grazie ancora e alla prossima grazie a tutti 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 grazie a tutti